L'ente comunale di Verbicaro è senza personale per combattere le emergenze? L'amministrazione Spingola corre ai ripari e costituisce la squadra di pronto intervento. La giunta guidata dal primo cittadino Felice Spingola ha infatti approvato di recente la delibera 103 su proposta del vice sindaco del Borgo Montano Mirella Ruggero. L'atto amministrativo votato dall'esecutivo garantirà al comune di costituire e dotarsi, almeno per ora, di una squadra operativa formata da tre lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità individuati su base volontaria. La costituzione del nucleo di lavoratori verbicaresi, si apprende dal documento proveniente dalla casa municipale, si è resa necessaria per fronteggiare le emergenze ambientali che troppo spesso richiedono interventi di estrema urgenza anche al di fuori dell'orario di servizio. Il nostro ente, ha detto Mirella Ruggero, non dispone di personale di ruolo che possa adempiere a tale incompensa. Diversamente, ha proseguito, nel disporre di personale LSU o LPU con qualifica operaia, può determinarsi per la gestione di uno staff con queste caratteristiche. Il tutto avrà un costo previsto dal bilancio comunale. Il sindaco Felice Spingola, chiamato a commentare la delibera, ha spiegato che quanto prodotto dalla sua giunta, rientra nella più ampia e articolata azione di revisione del piano di protezione civile comunale. Alluvioni, crisi dei rifiuti, sisma, tutte emergenze che potrebbero aggredire e che spesso interessano i nostri territori. Dunque, ha concluso il sindaco, ritengosi al caso di essere pronti per difendersi in maniera efficace ed efficiente e proprio quanto fatto dal comune di Verbicaro potrebbe essere un modello anche per altre realtà. Grazie a tutti.